Ciao a tutti da partire ragazzi, oggi sono in compagnia di un prodotto davvero interessante Genius Sky, parliamo di un cannocchiale monoculare, davvero molto ben fatto, prezzo accessibile per tutti perché siamo sotto i 60 euro, il prodotto lo troviamo sullo store più grande del mondo, Amazon Italia ma anche in altri paesi della comunità europea, ecco la scatola come si presenta, l'unboxing è stato fatto perché ho avuto modo di testare un pochettino questo prodotto in questi due giorni, mi è piaciuto veramente tantissimo, ecco come si presenta il nostro cannocchiale monoculare, bisogna dire che gli ingrandimenti sono da 15 a 45x, lente da 60 mm, molto luminosa, rivestita di un film verde che comunque dà una grande luminosità a questo sistema di ingrandimento, sistema di messa a fuoco a due fasi, sistema di regolazione del mirino ottico e sistema di messa a fuoco molto comoda, molto professionale, ci ricordo un pochettino quei teleobiettivi della Canon davvero molto grandi, ecco la serigrafia laterale Genius Sky, modello 15x45 60A, prodotto davvero fatto molto bene, le plastiche di colore verde si veramente danno un senso di concretezza, di robustezza, ma dalla scatola non esce solo il nostro cannocchiale, ben protetto dai tappi per coprire le lenti, vediamo dopo insieme, ma dalla scatola esce anche un comodissimo treppiede in lega di alluminio, credo che sia lega di magnesio, un pochettino quelli come erano fatti i cavalletti delle nostre biciclette degli anni 80, abbiamo una regolazione a 45 gradi, un pochettino duro, ma così deve essere, regolazione in piano completamente girevole, regolazione a 45 gradi ci consente di poter poggiare direttamente il nostro cannocchiale in modo molto facile, molto veloce e molto stabile, ricordo che questo cannocchiale ha l'aggancio per tutti i tipi di cavalletti, quindi lo potete utilizzare come volete voi, l'inclinazione vedete a 45 gradi sul piano completamente, avanti ci sono i tappi di protezione delle lenti di 60 mm, ma anche quella del mirino, vi faccio vedere, ovviamente dobbiamo fare attenzione a non graffiare queste lenti, la luminosità è totale perché l'ho utilizzato per vedere la colina davanti al mio ufficio, si vede veramente molto bene, ma dalla confezione troviamo anche non solo il nostro cavalletto che andiamo a mettere da parte, ma troviamo anche una pezzolina per pulirlo e abbiamo un comodo libretto di istruzioni, un semplice fogliettino che è semplicemente intuitivo l'utilizzo di questo cannocchiale, è davvero molto comodo, vedete, ha i tappi di protezione, nella parte sottostante ha un sistema standard di aggancio a tutti i tipi di cavalletti, cosa dire, chi volesse scrivere e chiedere informazioni può fare a gialluca.attanasio.it, sono a vostra disposizione, anzi voglio approfittare di questa recensione per consigliare i genitori, i neogenitori che hanno definita adolescenziale, di portarli a visitare la natura e fargli vedere le bellezze del nostro mondo, anche dei nostri monumenti, con questo cannocchiale avremo la possibilità di guardare veramente lontano, veramente oltre, quindi ricordo il mio indirizzo di vostra elettronica, gialluca.attanasio.it, se avete domande scrivete sulla piattaforma Amazon, ma se avete domande specifiche contattatemi direttamente alla mail, ragazzi ci vediamo nella prossima recensione con ovviamente Genusky, cannocchiale monoculare.